è fuori il mio sulla neve che adesso qua ce l'abbiamo non so dove mandate a finire qua perché ci stavo ci stavo giocando ieri e oggi quindi vabbè per ora lo tiro fuori eccolo qua forse questo aspetta e fammi vedere se riesco se riesco a cattura schermo eccolo qua vabbè questo fatto così una panoramica qui verso in casa perfettamente in bolla e quindi vabbè tanto perfettamente in bolla e sì sì è in bolla guarda devo andare per prenderci un po' la mano arrivo quindi ciò giocare devo salutare che c'ho la zuppa pronta ok aspetta che blocco il tutto ok va bene guarda tanto anch'io ora devo andare a prendere la pizza alla nipotina che l'ho qua con me stasera e tra poco devo uscire anch'io comunque complimenti per la stampante ci vediamo dai ciao buon appetito raffaele buon appetito dai ciao ciao buona serata stacco ciao ciao dai ciao ciao buona serata ciao 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 ciao